A Montemiletto i ladri in fuga perdono parte della rifurtiva e è accaduto nella contrada di Frustelle la notte scorsa. I malviventi si sono introdotti in un appartamento con le persone all'interno, riuscendo a trafugare gioielli ed effetti personali. Dopo aver messo segno il colpo, i ladri si sono allontanati per le campagne circostanti e, complici il buio, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Nella fuga i topi di appartamento hanno perso, abbandonato volutamente nel terreno adiacente e rapidazione, il telefonino e alcuni demonili trafugati. Sul caso indagano i carabinieri. Dopo un clima di calma apparente, dovuto anche al picco dell'emergenza sanitaria, i ladri sono tornati a colpire anche nella nostra provincia. Versaglio delle bande specializzate, villette ma non solo, presi di mira anche interi condomini, come dimostra l'escalation di furti registrata a Mercogliano e nella zona del Montorese.